Mr.Eteam Squad, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Sofia e questo è il quarto episodio di Among Us. Questo video è una collaborazione con Davide Pro di Minecraft, vi lascerò il suo link al canale qua sotto in info box. Andate tutti a seguirlo, vi lascio alla intro. Ancora prima di iniziare con il video della collaborazione, volevo dirvi che usciranno dei video sulle unghie registrati a settembre e ottobre. E' il primo Vlogmas la settimana prossima, intronatalizia e autronatalizia. Spero vi piaccia e adesso vi lascio veramente al video. Come sempre io e Davide ci siamo detti se eravamo cremate oppure impostori. In questo caso eravamo tutti e due cremate, facevamo le task assieme per evitare appunto di essere uccisi dall'impostore. Questi clip stavo facendo avanti e indietro perché non sapevo dov'era Davide. A volte rimaneva indietro e a volte andavo io davanti. Adesso ci stavamo dirigendo in navigation, però prima in admin perché dovevo fare un download. Invece nella navigation sempre di earth power. Alla fine ho deciso di non andare più in navigation e in admin perché volevo vedere le task che aveva Davide da fare. Quindi ci siamo diretti in upper engine. E che Davide pensavamo fosse l'astronauta rosso, l'impostore. Perché ogni tanto ci seguiva, ci guardava e non faceva le task. Se siete arrivati fino a questo punto del video, scrivete nei commenti collaboration. Nel frattempo io volevo andare un pochino in security a vedere cosa stesse succedendo. Anche se avevo le freccette puntate verso l'altra parte della nave. Ci stavamo dirigendo in caffettiglia perché Davide aveva il download e poi quello per pulire le foglie. Che non mi ricordo come si chiama. Però qualcuno ha chiamato l'emergency meeting. Dopo abbiamo scoperto che non era il rosso l'impostore. Ma lo scoprirete anche voi adesso che è l'impostore. Ecco, l'impostore è sempre stato l'astronauta giallo. E se avete guardato bene il video, prima ci stava inseguendo. Bene, questo video finisce qui. Io vi saluto, vi mando un grossissimo bacione. E noi ci vediamo martedì prossimo con un nuovo video. Sempre alle 17. Ogni tanto il giovedì. Ciao ciao! 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 Grazie. Grazie.